Uomini e donne, Riccardo Gismondi si è fidanzato la ragazza con cui avrebbe tradito Camilla Mangiapelo? È finita la scorsa estate non senza recriminazioni la storia d'amore fra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo. I due si erano conosciuti e innamorati nel 2016 durante Uomini e Donne. L'extronista l'aveva preferita Martina Lucchena. Una storia d'amore bellissima che purtroppo non ha avuto l'epilogo che tutti gli appassionati del dating show di Maria De Filippi sognavano. Stando ad alcune indiscrezioni trappelate da fonti vicine alla ex coppia, sembrerebbe che la rottura sia avvenuta per i tradimenti di Riccardo. Oggi Camilla ha voltato pagina, gli ultimi rumori infatti la danno accanto al calciatore del frusinone Lucchia Moro. Come riportato da Amadeu Venza in alcune sue storie su Instagram, Riccardo Gismondi si sarebbe fidanzato con la ragazza con cui avrebbe tradito la sua scelta. Ecco le storie di entrambi presso lo stesso posto. Ma già persone vicine mi avevano detto giorni fa che i due si vedono da un po'.